Un incidente è avvenuto questa mattina lungo la E45 sulla corsia nord in direzione Cesena all'altezza della frazione perugina di Ponte e Pattoli. Quattro le auto coinvolte, un'app Volkswagen, una Fiat Panda, una Porsche Panamera e una Opel Corsa. Da quando è stato possibile prendere, ma la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Perugia intervenuta sul posto, poco dopo le 8 l'app si trovava in corsia di sorpasso, stava sorpassando un autotreno quando questo tir si è spostato improvvisamente verso sinistra e l'ha urtata, da lì la carambola del resto delle auto che arrivavano da dietro. L'unico ferito un po' scioccato è il proprietario della app, il 118 che è arrivato sul posto non ha deciso di portarlo in ospedale, le sue condizioni non sono gravi, quest'ultimo sostiene che il camionista l'ha urtato e non si è fermato proseguendo per la sua strada, rallentamenti e code di auto in direzione nord verso Cesena. Sul posto la polizia stradale è il caro a Terzi per rimuovere le auto danneggiate.